Mai più lunghe file e attese dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare di persona allo sportello, basterà sedersi al computer. Potremo dunque scaricare 14 tipi di certificato, tra cui nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, stato di famiglia e civile. Documenti gratuiti senza necessità di pagare il bollo. Al portale si potrà accedere con la propria identità elettronica e si potranno chiedere certificati per tutti i membri del nucleo familiare. Dopo questa prima fase saranno disponibili in seguito altri servizi online, come la procedura per il cambio di residenza.